Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollono. La Breast Unit è un luogo dove si curano i tumori al seno, è una casa delle donne dove è un equip multidisciplinare composta da un oncologo, da un chirurgo senologo, da un chirurgo plastico, da un insieme di figure centrali e figure complementari, si tratta il tumore al seno dalla prevenzione al trattamento fino alle cure palliative, passando per tutto il percorso, dalla diagnosi alla chirurgia, alla chemioterapia, al trattamento delle complicanze, alla riabilitazione. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.